Benda sugli occhi, piedi legati con un nastro adesivo e mani bloccate da una camicia. Non potevano credere i loro occhi tecnici dell'ANAS che arrivati qui nella strada che da Trieste porta fine Slovenia per semplici lavori di manutenzione si sono trovati davanti un corpo di un iraniano di 52 anni ormai stato di decomposizione. Era lì da circa due giorni appeso al guardrail, in tasca alcuni folli, qualche ritaglio di giornale, niente di più. Di sicuro non i documenti di quest'uomo di cui non si conosce ancora l'identità. Dalle prime ispezioni sul corpo sembrano presentare segni di torture, solo delle cicatrici sulla testa. Resta da capire cosa sia successo se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio. La procura di Trieste non esclude nulla, tutte le piste sono aperte. Noi abbiamo provato a ripercorrere questa strada per capire se lui possa esserci arrivato da solo. Potrebbe aver percorso questa galleria a piedi rischiando tantissimo, poi sarebbe entrato qui in questa via di fuga, lo vedete c'è una fitta vegetazione, poi pian piano avrebbe percorso centinaia di metri fino ad arrivare al punto in cui poi il suo corpo è stato ritrovato. Noi abbiamo provato a continuare ma a un certo punto sembra essere quasi impossibile. Qui la vegetazione diventa sempre più fitta, è difficile proseguire. L'ipotesi che si fa sempre più spazio è quella di un omicidio maturato magari per una partita di droga non pagata oppure per uno scontro tra bande criminali. Qualcuno potrebbe averlo lasciato qui come per dare un segnale, un avvertimento in pieno stile mafioso. Ci sarà stato qualche sgarro probabilmente. Un regolamento di conti? Insomma se vuoi sbarazzarti di un cadavere c'è il carso, ci sono boschi, foreste e tutto quanto. Quindi appenderlo lì è proprio dare un segnale per farlo trovare e dare un avvertimento. E nessuno ha visto niente. Poche case si affacciano su questa sopraelevata, tante sono disabitate, c'è pure un palazzo di strutturazione. Quelle sono le telecamere di videosorveglianza che potranno spiegarci cosa è successo davvero. Grazie.